Con le definirei probabilmente le mie compagne di viaggio, perché davvero è con loro che sono cresciuta, con loro ho avuto una serie di soddisfazioni, anche di delusioni, perché no? Però questo si sa, fa parte del viaggio. E in questo viaggio meraviglioso ho avuto la possibilità di formare questo gruppo dal nome Alter Ego ed è attraverso di loro che vi faccio i miei più sentiti auguri di Buon Natale nel modo che prediligo. Quindi senza le parole, solo con la musica, il movimento e tutto ciò che da qui nasce. Solo per voi, sollevante! Buon Natale 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti